Sarà il paesaggio che cura il tema dell'ottava edizione di Vivi il Verde, la rassegna che si svolgerà dal 17 al 19 settembre, toccando un po' tutte le province emiliano-romagnole all'insegna della natura, del benessere e di una ritrovata socialità nei parchi e nelle aree verdi. Visite guidate, incontri, lavoratori, camminate, arte e terapia, trekking, presentazione di volumi, letture, iniziative per i più piccoli e per la prima volta un concorso fotografico. Il tema di quest'anno è il paesaggio che cura, ovvero conferenze, incontri e laboratori dedicati alla natura, alla socialità, all'armonia, al benessere psicofisico che si può trovare nel verde. Partiamo con un convegno, venerdì 17, in diretta streaming sul portale della Regione Emilia-Romagna e del Servizio Patrimonio Culturale, dedicato al tema del verde che cura con interventi dell'Associazione Medici per l'Ambiente, Associazione Alzheimer, ma anche la Fondazione Sant'Orsola di Bologna, il CAI, Club Alpino Italiano e le esperienze della Regione Emilia-Romagna in questo settore, welfare e aree protette. Continuiamo poi con tre giorni di esperienze sul campo, quindi trekking, arte e terapia, alla scoperta di nuove aperture di giardini, come quello del Terzo Paradiso di Guastalla, nuovi giardini appena aperti come quello di Imola, passeggiate sulle ciclovie, arte e terapia con il paesaggio dell'anima di Giorgio Morandi a Grizzana Morandi e tanti altri incontri per vivere il verde a pieno. E poi ci sarà un concorso fotografico. Sì, un concorso fotografico dedicato proprio all'interpretazione di questo tema, il paesaggio che cura. Chiediamo a tutti, professionisti e non, di partecipare all'estensione aperta fino a novembre di quest'anno, con uno o più scatti dedicati al tema del paesaggio che cura, declinato secondo le interpretazioni più diverse, e secondo le proprie sensibilità, una selezione di queste immagini sarà presentata in una mostra in occasione della giornata nazionale del paesaggio nel 2022.